Voglieva un'utenza soffita a una strada di gara che era indiettica e un residuo dell'Unione Europea, insomma, il punto è che in realtà se pensiamo con le nostre strutture sociali, le nostre macchine sociali, che abbiamo, che abbiamo, che abbiamo, sono degli eti delle politiche pubbliche di welfare sulla casa, e abbiamo, 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 a Firenze, a Napoli, a Roma, alcune, da un punto di vista fisico, ancora più massicci e utenti, che sono specifiche le caratterie iniziali, sono acromiale.